Gabriele Trigiani è andata storta? Sì, è andata piuttosto male, a parte nella fine del secondo quarto che siamo riusciti a riprendere un po' la partita in mano, correndo di più e essendo meno prevedibili. La giovane età ha potuto peccare secondo te? Ma la giovane età è da inizio del campionato, purtroppo è così, squadre di questo tipo e poi con arbitri soprattutto che secondo me non sono a livello per arbitrare questo tipo di partite perché siamo sempre sfavoriti, non c'è stata una partita che ci hanno aiutato tra virgolette giocando anche in casa, quindi il fattore campo noi non l'abbiamo mai avuto praticamente. C'è ancora tempo però per trovare la salvezza? La salvezza allora, questa partita è andata comandata, ovviamente noi dobbiamo proiettare tutto al futuro a Benafro e play out con Benafro perché là vince il più forte e si salva il più forte e basta.